Ora invece vediamo come utilizzare i pulsanti che sono qui vicino alle risorse che abbiamo inserito, alle attività o alle risorse che abbiamo inserito. Allora c'è questa serie di pulsanti, vediamo a cosa servono. Per esempio qui vicino al primo video di avvio all'uso di Moodle, che è un link a un video che abbiamo inserito prima, c'è una matichina. La matichina serve per modificare questo titolo. Allora se io schiaccio sulla matichina il titolo viene evidenziato, selezionato e io posso modificarlo. Quando ho finito le mie modifiche do invio e lo troverò modificato. La freccia serve invece per spostare tutto a destra. Ecco, se io voglio riportare nella posizione precedente, basta ricliccare sulla freccia e torna tutto com'era. Allora così sposto, ricliccando invece, cliccando sulla freccia sinistra che è comparsa adesso, sposto di nuovo verso sinistra. Questa crocetta invece serve per spostare questo, questa scritta, questo argomento, questa risorsa in su o in giù. Per esempio, qui ho il terzo video e vorrei che fosse sotto ai video invece che qui in fondo. Allora schiaccio sulla crocetta e lo trascino e lo metto sotto al secondo video. Vediamo se me lo fa... no. Allora di nuovo... è un po'... niente... ancora... eccolo... eccolo... e ancora... oh non ne vuole sapere... eccolo. Alla fine, insomma, con un po' di tentativi si riesce a dare l'ordine che si vuole utilizzando questo pulsante che consente lo spostamento. Poi, invece, la chiavetta, abbiamo già visto che serve per modificare la descrizione dell'attività o della risorsa che abbiamo inserito. Se io schiaccio sulla chiavetta, si riapre la finestra che mi era servita per inserirla e per mettere il nome e la descrizione. posso modificarla, poi salvare e tornare di nuovo al corso. Quindi, chiavetta serve per modificare quello che ho inserito. Questo foglietto doppio invece serve per duplicare, cioè posso fare una copia identica di quello che ho appena messo. La X, naturalmente, serve per eliminare tutto. L'occhio qui serve per nascondere la risorsa che ho messo. Per esempio, se io clicco sull'occhio, vedete che diventa trasparente, diventa meno evidenziata. Questo perché diciamo che io non voglio far vedere questa risorsa agli studenti, allora cliccando sull'occhio sarà visibile solo ai docenti ma non agli studenti. Adesso la riapro, basta cliccare di nuovo sull'occhio. L'ultima, questa, vedete che serve per definire i ruoli. Naturalmente, ogni volta che io mi vado col mouse su uno di questi strumenti, compare il nome dello strumento e il suo uso. Allora, l'occhio nascondi. Questo invece, ruoli. Cioè, qui posso dare dei ruoli specifici per l'utilizzo di questa risorsa. Poi, in alto, invece, abbiamo questa lampadina che serve, vedete, c'è scritto per contrassegnare questo argomento come argomento corrente. Se io clicco sopra, vedete, viene evidenziato rispetto a tutti gli altri, risulta essere più in evidenza. Ci metto un attimino a evidenziarlo, ma dovrebbe, eccolo qua, vedete che è evidenziato. Però, ricliccando sopra, ritorna come prima. Ultima cosa, questo occhio serve per nascondere tutto questo argomento come si usa. Eccolo qua, se ci clicco, scompare tutto. Riclicco sopra, ritorna.